Con oltre 300 detenuti in più rispetto alla capienza massima prevista e tante carenze di personale nella polizia penitenziaria, ma anche tra gli amministrativi e gli educatori dei detenuti, è il quadro che risulta dal ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone. Su 3.981 posti disponibili nelle carceri piemontesi sono 4.206 detenuti in cella. Nella regione il dato del sovraffollamento in carcere al 31 marzo scorso è del 105%, comunque più basso rispetto alla media nazionale, che è in crescita al 119%. Rilevante il dato regionale sulla scarsità di personale, sono 142 le unità di personale amministrativo mancanti in Piemonte, carente anche la polizia penitenziaria, con un rapporto tra detenuti e agenti a febbraio 2024 di 1,8. Lo stesso vale per gli educatori, per cui si riscontra un'allarmante situazione nella casa circondaleale di Novara, dove è presente un solo educatore rispetto ai tre previsti della pianta organica per un numero di detenuti pari a 178. Quadro decisamente differente a Verbania, che sembra essere quasi un'isola felice, dove la fotografia della struttura carceraria è considerata migliore rispetto all'arresto della Piemonte. Lo ha detto il garante regionale, Bruno Mellano, una settimana fa in visita in città. Le persone detenute a Verbania sono 82, su un massimo tollerabile di 89, di cui 24 lavorano all'esterno, altre 12 sono impiegate all'interno del carcere stesso. A disposizione dei detenuti vi sono palestra, biblioteca, campetto, oltre a diversi corsi. Per quanto riguarda invece il dato allarmante dei tentati suicidi, in carcere negli ultimi anni si sono registrati tra case.